senza molto da ci sono come buona buona questa ricca è bella edici diciamo il loro qui non è di qua di c'è un ammazzatello non si chiede cattigianone bulgaro non si fanno il suo dell'estero ah signore mio bello ma poi fa giù un appartamento in effetto io faccio appartamento non faccio appartamento cioè io faccio appartamento non ci faccio vi faccio andate però a farli completi devi mettere la pellicola una volta ti trasporti ah io come andando noi siamo tutti uguali non ha fatto tutta insieme la prima portatela fanno 170 e 170 si che è decalata che è decalata 350 non ci facciamo anche noi ci facciamo a tazera costa via che sono bella non era niente